Leonardo, io per l'occasione vi presento un carissimo amico conosciuto sui social, Don Raffaele De Cristofaro, pronto in collegamento Skype. Bentrovato Don Raffaele. Grazie, salute e speranza a tutti. Ecco, ecco qua, già rivelato insomma l'argomento di cui parleremo, ma noi lo porteremo, questo argomento che è la speranza, nelle corsie di ospedale, perché lui è cappellano ospedaliero. Don Raffaele, ti vogliamo conoscere sotto questo punto di vista. Tu hai sviluppato anche delle catechesi sulle virtù, in particolare anche quella sul, anche la virtù della speranza, che è, come dice Papa Francesco, piccola, la più piccola ma la più forte. E sicuramente la nostra speranza ha un volto, che tu porti in ospedale, di questo siamo certi. Allora vogliamo un po' sentirci dire da te la tua esperienza. davanti agli ammalati, ai sofferenti. Sì, da circa sei anni, oltre ad essere parroco, sono anche cappellano dell'ospedale. E in questi anni sto leggendo il libro più bello, che mi passa ogni giorno tra le mani, che è il libro dei volti di tanta gente che soffre e di tanta gente che aiuta chi soffre. E quindi, quando io fui nominato cappellano dell'ospedale alcuni anni fa, io credevo che il mio servizio fosse rivolto principalmente agli ammalati. Invece poi mi sono reso conto, giorno dopo giorno, di quanto abbia bisogno anche il personale sanitario di una parola di incoraggiamento continua. Anche le famiglie degli ammalati hanno bisogno di speranza. È perché noi ripetiamo sempre la parola speranza, ma tante volte la ripetiamo solamente perché non sappiamo come affrontare la realtà. In realtà la speranza è proprio una capacità, una virtù che dobbiamo esercitare ogni giorno per entrare nel cuore della gente. Tu facevi riferimento anche agli operatori sanitari e alle famiglie degli ammalati, quindi dei ricoverati in ospedale. Lì c'è stato più, c'è forse più un servizio di ascolto da parte tua? La speranza è la chiave universale per entrare in dialogo e in relazione con tutti. Perché io quando mi avvicino a un ammalato o a un medico, a un infermiere, io non posso presentare subito la fede, la preghiera, questo vengono dopo. La speranza invece io la ritengo come la chiave universale che mi permette di entrare nel cuore di tutti, credenti e non credenti. Ecco, questo è meraviglioso, è un linguaggio universale. Don Raffaele, quanto è stato difficile in questo periodo di pandemia ritrovarti a portare la speranza, a parlare di speranza? Innanzitutto la speranza ha incontrato anche la paura in questi mesi, soprattutto i primi mesi. Però quando entro nel reparto, quando entro nei reparti, io mi accorgo sempre che prima di me, in quel reparto, Dio già c'è. E quindi questo mi incoraggia ad andare avanti, perché Dio è presente in ogni persona che soffre ed è presente ovviamente in tutti coloro che in quel reparto lavorano. Quindi quando io entro, entro già con la certezza di trovare Dio. Che meraviglia! Don Raffaele, ti è mai capitato di non ritrovare più qualcuno che magari il giorno prima avevi confortato? Cosa si prova? Come sei tornato a casa? In sei anni, varie volte, mi è capitato di vedere un letto vuoto. Il letto occupato da una persona che magari fino al giorno prima era in dialogo e in cammino di sfede con me. È stata un'esperienza davvero forte. Soprattutto le prime volte ho pianto, ho versato delle lacrime. Però poi il contatto con la famiglia di quell'ammalato mi ha permesso di continuare quel mio servizio di ascolto e di accompagnamento. Non più all'ammalato che in quel momento non era più presente, ma con i familiari. Ecco questo rapporto che non si deve mai interrompere. E devo dire che in sei anni sono nate bellissime amicizie con tante famiglie conosciute in questi periodi difficili. Don Raffaele, tu prima parlavi di credenti e non credenti, ma come si fa a far comprendere, a far vivere la speranza ai non credenti? Come la traduci con l'esempio, ovviamente con il dialogo? Però ecco, magari trovi di fronte sempre qualcuno un po' freddo, un po' restio. Mi è capitato varie volte che una persona molto credente in un periodo di malattia si allontana e tante persone che erano lontane durante la malattia si avvicinano. Io uso sempre questa frase a me stesso, quanto più si è umani, tanto più si è divini. L'umanità, ecco, diventando più umani, esercitando la mia umanità, riesco a manifestare tutto il resto, la mia fede, la mia speranza, la mia carità e tutte le altre virtù. L'umanità è la base di tutto. E già solo vedendosi, insomma, ci si rende conto di chi sia di fronte. Don Raffaele, ti faccio un'ultima domanda. Adesso stanno riaprendo le città, praticamente, stanno riaprendo le case di riposo per gli anziani. Cosa vuoi dire di speranzoso per chi ci ha creduto sin dall'inizio e per chi ancora non ci crede, insomma, vede il mondo ancora un po' buio? Sì, io spero perché Dio è accanto a me. Questo possiamo dirlo tutti e ripetiamocelo. Io spero perché Dio è accanto a me, però attenti, prudenti. È vero che andiamo incontro all'estate e questo ci porta a distrarci facilmente, ma c'è ancora molta, molta gente che sta vivendo quello che la gran parte delle persone hanno vissuto durante l'inverno, perché questa pandemia continua. E quindi la speranza però qual è? È che possiamo farcela rimanendo più calmi e soprattutto più sereni, di sapere che non siamo soli, ma Dio c'è. E Dio c'è anche attraverso tanta brava gente che ogni giorno fa qualcosa per noi. Ecco, anche perché Dio non va in ferie durante l'estate. Non se lo può permettere. Allora, io concludo salutandoti, ovviamente ringraziandoti di cuore. Il tempo è volato, ma mi prometterai insomma che ci rivedremo volentieri al più presto. Ti saluto come saluti tu solitamente sui social, perché tante sono le riflessioni profonde che Don Raffaele posta, tanti lo seguono, è una chiappa like se vogliamo. Don Raffaele, vogliamoci bene. Vogliamoci bene, davvero, con tutto il cuore. Grazie, grazie. Grazie a te.